segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te ben tornato benvenuto da il parenzo conduce in onda su questa rete la zanzara su radio 24 al parioli di roma il 7 marzo col suo spettacolo ebreo benvenuto fabio dragoni la verità carlo calenda che pensa della shine penso che bisogna fare i complimenti intanto perché ha vinto una bella battaglia democratica è una donna preparata che ha le sue convinzioni sono abbastanza diverse dalle mie ma oggi credo che sia il giorno per di fare i complimenti quali sono le convinzioni diverse alle sue sulla guerra è stata sempre contraria all'invio delle armi sui termovalorizzatori sulla necessità di prendere il gas che abbiamo nel mediterraneo sulla necessità di fare i termovalorizzatori sull'idea che l'economia può essere guidata completamente dallo stato tante cose massimi sistemi termovalorizzatore ha monnezza david parenzo prima domanda ma è la prima cosa che voglio chiedere a carenda visto che ha descritto tutte le cose negative che non vanno della schlai pensiero diverso condivide legittimo però è interessante perché la schlai ha detto saremo un problema per il governo cioè ha subito dichiarato guerra voi sarete un problema per il governo non sempre perché ma io mi auguro di essere un'opportunità per l'italia cioè quello che voglio dire è però lei si candida a fare la leader dell'opposizione con uno stile anche meloniano lo stile sono dieci anni che andiamo avanti così no cioè meloni ha fatto tutta la sua campagna elettorale dicendo il blocco navale la sostituzione etnica l'invasione oggi abbiamo il record dei migranti che entra poi dice che 500 mila persone devono entrare e chi ante dosi dice che li va a prendere che non devono partire perché li andrà a prendere non si capisce più niente allora quello che voglio dire è che la dimensione su cui noi lavoriamo che se c'è una cosa su cui siamo d'accordo per esempio il salario minimo perché oggi la povertà lavorativa è un problema gigantesco e sotto i 9 euro non ci deve lavorare nessuno io sono prontissimo a fare una battaglia con la schlai se la meloni tiene la linea sulla politica estera io sottoscrivo la politica estera però anche il pd anche la slime lei diceva sempre contraria alle armi in realtà ultimamente aveva detto non lo so io diceva con le armi non si risolve la guerra con le armi non si risolve finché sarà necessario è l'ultima dichiarazione che lei ha fatto il 20 gennaio finché sarà necessario se sarò smentito io sarò l'uomo più felice del mondo detto questo quello che stavo dicendo è che la dimensione della politica fatta per essere un problema per gli altri finisce per essere un problema per gli italiani questa è la storia che abbiamo dragoni calenda ci tiene ci tiene a farci sapere che è diversissimo da elish line ma deve convincerci che è diversissimo perché io non sono mica tanto sicuro che siete così diversi prendiamo insieme l'aereo e andiamo a bruxelles un paio di settimane fa sono state approvate a bruxelles prima di tutto in commissione uno schema di direttiva lo schema di direttiva sulla casa in cui gli italiani saranno obbligati a ristrutturare 9 milioni di edifici per ridurre dicono gli esperti le emissioni di co2 dello 0,11 per cento nulla un nulla che costerebbe 1.500 miliardi e voi non vi siete opposti a questa roba e ovviamente il pd ha votato compattamente a favore andiamo poi a strasburgo a strasburgo è stato approvato uno schema di regolamento che mette al bando le auto a benzina dal 2035 un massacro per la nostra industria e anche qui voi avete votato compattamente come il partito democratico cioè guardiamoci chiaro io vedo 50 sfumature di grigio il movimento 5 stelle elish line e anche azione italia viva di calenda io tutta questa diversità sinceramente non la vedo allora i due temi sulla questione della casa come lei sa in tutto ci siamo astenuti e ci siamo astenuti facendo però una battaglia e dicendo che vogliamo fare una battaglia per cambiarla quella normativa perché quella normativa non è solo sbagliata è infattibile a quello che abbiamo detto è siccome quella normativa ha dentro adesso dopo il primo passaggio in parlamento tenga presente che anche sui motori endotermi che io endotermici ho votato contro anzi sul lato dei pochissimi però aspettate non ci perdiamo perché qua è un problema di approccio dovremmo parlare di radicalismo no 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 ma scusa ma questi due temi non sono il nucleo politico non sono una cosa banale perché sono due normative completamente errate che riscono di disintegrare completamente da un lato l'industria dell'auto italiana e dall'altro la diciamo l'auto non succederà niente però in teoria non puoi vendere casa se non hai fatto dei lavori costosissimi ma lì abbiamo una posizione diametralmente opposta io ho votato contro al parlamento sul motore endotermico ci siamo astenuti sulla casa al secondo passaggio quando è stato messo la clausola è troppo complicata scusi onorevole Calenda la mia domanda è la vita è complicata io non la posso semplificare lo so però non siamo neanche il posto dove si compilano le direttive quello che io le sto chiedendo sono molto diverso sono contrario a tutte allora io le pongo in che cosa è diversa elish klein rispetto a bonaccini o meglio in che cosa è diverso il pd ora che c'è lei o ancora meglio è come diceva marco travaglia all'inizio diceva qua ormai qualsiasi cosa arrivi nuovo talmente odiato quello che esiste che uno lo prende dice intanto dammela e in questo è andata bene questo meccanismo di scelta ogni volta abbiamo scelto quello arriva nuovo poi dopo due mesi non ci è piaciuto più però al di là delle battute io credo che bonaccini ha una visione che è la stessa nostra sulla politica energetica sulla politica economica sulla politica industriale e oggettivamente sulla politica è un invito a venire con lei no 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 io non va a guardare io non invito nessuno andare a fare niente sono scelte personali sto solo dicendo che mentre se io dovessi governare con bonaccini alcune cose le condividerei altre le condividerei meno però potremmo governare insieme con elislein al momento per quello che ha espresso fino ad oggi poi uno come abbiamo visto con la meloni cambia idea molto spesso poi al momento è così poi domani chi lo sa ma io non credo però credo che c'è una cosa più di fondo cioè che la linea del partito democratico se lei prende elislein è totalmente sovrapponibile a quella del movimento cinque stelle dicono le stesse cose e allora siccome quella è la linea io credo che quella linea lì è una linea che non ci appartiene ma io ho una domanda molto diretta insomma da quello che ci sta dicendo stasera calenda calenda sembra molto più vicino a tagliani piuttosto che alla schlein che non è una colpa di per sé perché non è che stava però mi sembra di più ma perché tagliani cioè no adesso premesso che io credo che una delle ragioni per cui siamo molto insoddisfatti della politica è spiegarla così però questo ovviamente attiene a lei non a me ma in che perché tagliani no dico tagliani per dire una parte di forza italia che sicuramente su alcune cose lei è più vicino ma non è una colpa no 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 cercavo di capire molti degli esponenti del suo partito vengono da forza italia quindi non ci sarebbe un animale però allora invece la questione di fondo è molto strano più che altro molti ci vorrebbero andare forse Renzi ma Elena Boschi ora ne parleremo perché la questione di fondo interessante è esattamente questa cioè lei dice io al momento escludo così ha detto di potermi in qualche modo alleare con col partito democratico guidato dalla Schlein sì eppure storicamente anche in Italia c'è sempre stata una sinistra che è alleata con un centro riformista quindi dov'è il problema cioè in fondo quando non per andare indietro che non governi eh che non governi ma non è vero alla fine prodi l'unione l'unione però alla fine per vent'anni c'è stata un'alternanza tra centrosinistra e centrodestra posso fare una domanda in questi scusi in questi 30 anni l'Italia è peggiorata in ogni singolo indicatore dell'universo ne puoi prendere una a caso qualsiasi allora la domanda è questo modo di fare politica in cui ti accrocchi per battere l'altra elezione poi non governi è una cosa che vogliamo continuare perché quello non è il modo in cui io voglio fare politica io venivo dalle aziende torno a stare nelle aziende e faccio un'altra cosa quello che cerco di fare è trovare dei meccanismi per recuperare il voto verso soluzioni che sono pragmatiche per cui spiegano perché devi essere scusa un secondo solo perché devi fare no scusa finisco perché devi fare il termo valorizzatore a Roma perché noi possiamo pensare che questa non è una cosa politica ma la politica no ma l'Elish Line no allora qual è sì ma l'Elish Line no ma possibile che per un termo valorizzatore lasciate governare la destra è quello che si domanda ma non è il termo valorizzatore è una semplificazione è possibile che per la politica energetica per la politica industriale per l'idea sul reddito di cittadinanza e allora le pongo un'altra domanda alla destra le sembra molto meglio di una sinistra che tenga insieme a Elish Line no io penso che siano due facce dello stesso problema e allora dovendo scegliere chi far governare è meglio Meloni con i putiniani Berlusconi e Salvini due martedì fa questo film abbiamo già fatto vabbè magari non c'è cambiato il pubblico ma non credo allora il punto è che non credo che sia la sfida per fare politica a meno che non siano necessità a fare politica credo che la sfida oggi è portare qualcuno che può coerentemente governare con pragmatismo il paese allora prima dovete essere voi del terzo polo il 50% no ma non è così perché il PD oggi è questo ieri era un altro domani sarà un altro l'area chiamiamola di destra anche voi forse oggi c'è così ma certo quello che voglio dire è che la politica cambia molto ma la prima cosa da fare è ritrovare un'area di centro che è moderata nei valori ma risoluta nelle azioni che parla il linguaggio della verità abbiamo bisogno delle trivelle perché sennò il gas ce lo dobbiamo andare a comprare quindi lei dice io tengo comunque questa posizione perché la politica sarà costretta a trovare altre soluzioni rispetto a questo io credo che la politica sarà costretta perché sennò il paese non è governato scioglie il suo partito anche Renzi scioglie il suo e diventate un nuovo partito sì noi il processo che vogliamo fare di cui abbiamo discusso stasera è dare vita a un partito liberal democratico popolare però non c'era Renzi stasera ma Renzi non c'è perché degli organi perché dopo molto tempo che gli avete chiesto di fare un passo indietro tutti quanti gli abbiamo chiesto l'ha fatto quindi lui non è presente nel comitato politico che lo decide e l'ha deciso con le persone Elena Bonetti è la vicepresidente brevissima ministra del governo Draghi qui lavoriamo insieme avete trovato già un nome del partito? sì ci abbiamo riflettuto però lo presentiamo poi partito repubblicano, partito d'azione partito d'azione mi piace molto è la ragione per cui ho chiamato azione il partito Fabio Dragoni chi si intende di politica o che comunque si dà le aree di intendersi di politica sostiene che Giorgia Meloni abbia un progetto europeo in grande stile dopo le elezioni europee del 2024 dove penso che anche il vostro partito otterrà un risultato dignitoso, soddisfacente vede da lei si creerà, potrebbe crearsi a seconda di come vanno i risultati una maggioranza diversa in seno al Parlamento europeo i conservatori di cui ricordiamolo Giorgia Meloni è presidente i popolari e anche i sovranisti Salvini, Le Pen e qui si ritorna sempre al punto di partenza voi che fate? continuate a stare con Timmermans, il PD e i Verdi quella roba lì? oppure effettivamente dite vabbè ci siamo sbagliati abbiamo votato delle direttive degli schemi di regolamenti perché le avete votate? no 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 vi siete astenuti però non faccio no 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 scusa buttiamo in casciara sulla noi prima quelli schemi di regolamenti sono stati votati dal ministro Pichetto in consiglio quindi dal governo e dopo Salvini ci ha fatto 18 dirette Facebook dicendo orrore quindi prima di tutto questo governo ha un grado di confusione intellettuale che mi scusi io non ho perché noi abbiamo questo è vero se no qua diciamo è l'ora della butto lì e siccome lei è un giornalista serio con cui abbiamo un buon rapporto possiamo dire allora oggi non è così e domani non sarà così io con chi governo oggi? con i popolari cioè con quello che è Forza Italia qui con i social democratici con i liberali che sono io diciamo la mia area Macron per intenderci questa cosa qui che lei dice è del tutto futuribile perché in mezzo c'è un problema che mentre oggi c'è un'emergenza guerra che spinge a tenersi vicino ai paesi che ledono lo Stato di diritto e che sono però alleati della Meloni domani io spero a guerra finita questa cosa si riproporrà inevitabilmente quindi oggi il presente è una larga coalizione Rvm 101 guardate Berlusconi su Zelensky a parlare con Zelensky se fosse stato Presidente del Consiglio non ci sarei mai andato bastava che lui cessasse di attaccare le due Repubbliche autonome del Donbass quindi io giudico molto 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 negativamente il comportamento di questo signore non è che la politica diciamo porta a trovare delle composizioni se trovasse magari sul mercato del lavoro con Forza Italia va d'accordo ma poi si troverebbe magari con un partito che vuole fare Forza Italia sul mercato del lavoro me lo sono perso che vuole fare Forza Italia sul mercato del lavoro non lo so me lo sono perso non è più vicino alle sue posizioni sulla deregolamentazione rispetto all'ishline beh in contatto Forza Italia non è affatto per vicino alla deregolamentazione appena ha bloccato la norma sui balneari quindi voglio dire di liberale in Forza Italia non c'è più niente ma a parte da questo da secoli ma a parte ma si trova difetti in tutti con chi si unisce alla fine ma scusi posso dire una cosa ma com'è che noi abbiamo la memoria così corta noi veniamo da una stagione in cui i partiti che sono emersi hanno fatto una lunga attraversata nel deserto mantenendo una linea di coerenza da Meloni persino il Movimento 5 Stelle da cui sono molto distante non sarà che quello che bisogna fare anche le forze più pragmatiche riformiste è predisporsi a fare un lavoro semplice cioè recuperare prima gli elettori darsi una forza e portare avanti le proprie ma Renzi la seguo però gli elettori ci sono allora da una parte alcuni elettori hanno deciso di non andare a votare appunto gli elettori ci sono mica tanto alcuni hanno deciso di non andare a votare poi di tutto sto giochino di cui stiamo parlando si sono pure rotti le scatole non sono andati a votare e qui alcuni e quindi hanno espresso al loro modo una non partecipazione però noi non siamo nel sistema americano inglese che lei conosce bene due partiti e quelli sono sistema italiano prevede le alleanze fino a qua ma anche con un'altra legge elettorale quelle sono fondamentali e allora la questione che secondo me in molti si pongono è questa possibile mai che il centrodestra è riuscito a tenere insieme all'epoca il secessionista Bossi con il nazionalista Fini e Pierferdinando Casini che prima stava dall'altra parte e voi oggi non ieri oggi non riuscite a mettere insieme il partito d'azione con la sinistra della slide secondo me l'elettore non lo capisce perché è stato un glorioso successo quel governo è caduto esattamente dopo nove mesi un anno senza fare un cacchio perché a forza io lo so che lo so che scusi Parenzo mi fa io l'ho fatta parlare quella cosa l'ho fatta parlare mi faccia rispondere no no ma figuriamo l'ho fatta parlare mi faccia rispondere noi partiamo da un dato continuiamo a dire che la politica così com'è non ha governato l'Italia fa schifo e non funziona e continuiamo a chiedere di fare esattamente la stessa cosa continuando a fare schifo e continuando a non funziona ma hanno governato e allora siamo pazzi hanno governato allora guardi le faccio due esempi ma scusa la politica non è un gioco di società dove se governi male chi se ne importa perché la politica scusi serve solo a governare bene allora io forse ce l'ho Davide un esempio per portarlo allora forse la politica però è anche in qualche misura l'arte del meno peggio le faccio vedere guardi le europee guardi le regionali mentre lei si divide la sinistra piante dosi dice questo il rvm 102 riguardo alla dramma di Cutro la disperazione credo non può mai giustificare insomma le condizioni di viaggio che mettono in pericolo la vita dei propri figli se lei fosse disperato cercherebbe di raggiungere l'altra parte del mondo anche con queste emozioni del mare no no perché le dico pure perché perché sono stato educato anche alla responsabilità no di non chiedermi sempre io che cosa mi devo aspettare dal luogo dal paese in cui vivo ma anche quello che posso dare io al paese in cui vivo per il riscatto dello stesso per la sua storia per la storia del partito d'azione quello che è stato non le viene da dire beh allora io mi devo mettere d'accordo anche con chi è diverso per evitare ci siamo ministri gli interni così no è una semplificazione io ho giudicato le parole di piantedosi sbagliate e ripugnanti ma provo a ripeterlo per l'ennesima volta con questo sistema cioè di metterci insieme contro gli altri sa cosa succede? che l'immigrazione non è mai stata gestita Pietro Orlani